ma questo non sono io e da voi chiama la pulizia mo non sono io se te sto dicendo non so io muo chiama la pulizia per davvero eh ehi sto qui in notte oddio no muoro ecco sono morto oddio ma che sta succedendo guarda come sono ridotto eh infatti ok ho oh io sto a losantos custom sto venendo con la mia osiris ecco mi vedi mi vedi no non ti vedo sto venendo sto venendo adesso con la mia osiris beh tu sei a losantos custom eh stavo venendo adesso io stavo a losantos custom ecco guarda che c'ho guarda che c'ho ma che cat vedi 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 non so che c'ho guarda adesso sicuramente che succede seguimi guarda che c'ho in testa poi seguimi ma che cazzo è non so mi vedete guardate oddio mio che sto sto a fare oh oddio mi aiuto ma che sto sto a fare eccolo franci io non so qui no io non vedo nulla oh io non vedo nulla io non vedo nulla oddio ma che gli è successo sto di ci aiuto io vado via oddio mio ma che è oddio mio ma che è oddio mio ma cazzo io non vedo nulla io non vedo nulla cazzo è no ma queste stanno a comparsi e giravolti che ne so boh ma che cazzo sta a di oddio mio franci guarda ma cosa non c'è nulla non c'è nulla davanti a me no ma che c'è qui c'è ci sono i container tutto non lo so che è successo ma container ma che cazzo oddio no è diventata rossa la mia auto che è successo no bufie oddio mio ma che è successo no no sto tenendo a fuoco ma che è oddio mio oddio mio io non vedo nulla ma che è sto macello tu mi vedi io non vedo niente io non vedo nulla oddio i soldi i soldi i soldi i soldi mi stanno andando i soldi oddio ma eccoli cazzo soldi 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 oddio mi stanno ma questo qua che è ammolldato ho capito chi è stato così ha smesso che cazzo ma spranti chi è oddio mio volevo i soldi dai vaffanculo e siete spottando a me non è possibile non è che un'altra ce l'ho un'altra che si chiara oh sei tu il modder sei tu il modder io eh è sicuro è vero taste i soldi ci hai i soldi ragazzi sta dando i soldi i soldi i soldi i soldi no ma sei tu il modder j non ce si potresti non ce l'ho detto prima ridacci le arm ridacci le arm No, non sono io, te lo giuro! Oh! Dai, ma perché mi hai chiesto io? No, dacci le armi, dacci le armi. No, però c'è lo su Gesù, ora che non sono io. Oh, guarda che ti segnalo, eh, ti segnalo. Ma non sono io, ehi! Oh, ma non sono io, dai, ti prego, non segnalarmi, non sono io! Dai, ma ammazzato, non ci posso credere, l'ho fatto anch'io il video. No, ma, oh, non sono io, ve lo giuro! Ma non è possibile che non sei tu, ci abbiamo visto benissimo che sei tu, dai, madonna. No, te lo giuro, è Franci quello lì, te lo giuro, è inolta, ho toccato una volta che abbiamo avuto la scorsa. Te lo giuro, io non sto facendo niente. Oh, ha fatto spawnare l'idra, guarda, c'era un sacco di idra qua, che cazzo è? Io non ho fatto niente, ve lo giuro! No, no, no! Non sono io, ve lo giuro! Eh, sì, sì, sto facendo il video, lo sto mandando, così lo mando, eh, così lo manda la rossa. Oh, però non dite che so io, perché non è vero che so io, eh! No, io ho detto proprio il tuo Gantar. Il tuo Gantar. Che cazzo fanno? Oddio, ma chi è questo? Perché mi hai fatto esplodere? Non sono io! Dai, oh, mi... Sono vivo! Che cazzo? Sono vivo! Mi c'è... Che cosa è successo? No, ma è infatti buono. Non sono io, te lo giuro, ehi! Oh, non sono io, oh! Oh, spero! Oh, spero! Oh, spero! Ma non sono io! Ma perché mi segnalate, oh! Oh, ma perché mi segnalate, vi prego! Dai! Dai! Ma dai, vi prego! Ma perché mi segnalate, non sono io! Ragazzi, aspetta! No, no, aspetta! Sto chiamando le... Oh! Chiamo le roxa, chiamo le roxa, aspetta! Oh, non sono io! Eh, io! Eh, sì! Ma questo... Non sono io! Oh, io mi chiamo la cursi, amore! Non sono io! Se ce sto dicendo, non so io! Ma chiamo la cursi per davvero, eh! Eh! Pronto Microsoft, sì! Allora, c'è un hacker in sessione... C'è... C'è uno che va... Che ha la console modificata in sessione! Oh, non sono io, ragazzi! Sì! No, no! Eh... Il GameTarg, sì! Allora, il GameTarg è... Eh... T-H-R... No, T-H-O, scusi! T-H-O-R-N-I-E-R-T-A-T-O-N-98 Ok! Non sono io! No, sta... Sta su GTA Online con... eh... Sicuramente avrà una modifica strana, perché è tipo online che... Ci dà i soldi... Eh... Fa esplodere... Sì! Esatto! Exploit! Eh, perché ci hanno dato dei soldi... Ci hanno dato dei soldi e abbiamo paura che ci bannano, capito? Quindi se ci può... Se... Ci potete resettare i soldi... Sì! Stare già prendendo provvedimenti... Sì! Eh... No, ma è a rango 26... No, probabilmente è fatto apposta a mettersi in rango basso... Sì! Oh, non lo so! Non sono io! Ve lo giuro! Sì! No, no... Comunque... Sì, sì, è in sessione con... Con la modifica online, sì! Sì! Va bene! Ok! Quindi verrà... Oh, non sono io! Verrà... Verrà bannato... Tra qualche giorno, più o meno! Ah, già da domani potrebbe essere... Risultato già il report? Sì! No, dai raga! Ma non sono io! Vabbè! Penso che si sia il bando della console... Quindi non potrà proprio più accedere con tutta la console... A Xbox Live! Sì! Come? 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 Ah, ok! Va benissimo! La ringrazio! Buona giornata! Arrivederci! Oh! Ma mi sentite? Ah, ma... Non l'ho mutato l'audio! Non l'ho mutato io! Oddio! No, perché ha fatto vedere la segnalazione! Oh, già! Ma perché? Oh! Comunque hanno detto che ti banneranno la console o il profilo... Ma... Penso più alla console se ti beccano che è la modifica e che hanno detto che... Allora, avrei bannato... Ma non ciò fa meglio, lo giuro! Verrei... Eh, che... Cioè, dai! Mi hai dato i soldi! Adesso mi bannano perché... Ti faccio parlare da... Ti faccio parlare da... Ti faccio parlare da mi padre! Ti faccio parlare da mi madre! Sta qui davanti! Eh! Ma non serve! Tranquillo! Non è che... No, ecco! Ti faccio parlare! Va bene! No! No! Eh! Arissandra! Che! Non ce l'ho! Oh! Devo tirare fuori il disco! Ah! Tu premi il coso per tirare fuori il disco e subito spegni la console dal bottoncino! Quindi premi il bottoncino per far uscire il disco e subito dopo il bottone grande per spegnere la console! Allora ciao! Vi vedo domani eh! Va bene! Ok! Ciao! Ciao! Cosa c'è? Cosa c'è lì? Fatta c'è fare... Poi... Tinti? Grazie per la visione!